Grazie a tutti E cosa faccio? E per professione certo non faccio la presentatrice Allora vi do il benvenuto a questa venticinquesima sagra della frutta secca Quest'anno come tutti potete notare abbiamo adombato la nostra piazza con nastri e palloncini color argento Perché con estrema gioia festeggiamo il venticinquesimo anno di questa cara manifestazione Come ci è consueto fare dedichiamo la prima serata ai nostri piccoli grandi artisti Che tra qualche istante Dicevo che tra qualche istante si cimenteranno nelle canzoni più famose Per omaggiare con autentico affetto il nostro amato Michele Meo Ad affiancarmi nella conduzione di questa serata sarà la nostra Sonia Laiola Ad esibirsi saranno Jessica Caliendo e Gianluca Fortunato nel tormentone dell'estate Wacka Wacka Ad esibirsi saranno O lang ... O lang ... O lang ... Allora Luca Luca Luca, quanti anni hai tu? Quanti? E dillo Quattro E questa sera che ci canti tu? Il coccodrillo Il coccodrillo? Ma il coccodrillo come fa? Boh Allora ce lo canta lui adesso, forza Un applauso Noi oggi tutti insieme che peremo di parlare Come fanno per parlare fra di loro gli animali? Come va il cane? E il gatto? E il coccodrillo? Il coccodrillo? E 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 il coccodrillo? Come fa tutto qui? Signori, battete le mani! Un applauso a Giuseppe! E il coccodrillo? Grazie! 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 Grazie!